Previsioni meteo per giovedì 12 settembre. Al nord cielo nobuloso con residui e precipitazioni, specie nelle aree alpine e prealpine sul Friuli, Venezia e Giulia. Fenomeni in attunazione dal pomeriggio. Al centro e al sud cielo irregolarmente nobuloso, sereno, molto nobuloso sulle aree peninsulari e versante tirrenico, rovesci sparsi. Venti da nord sulle regioni settentrionali, mari da molto mossi a mossi, temperature massime e minime in calo.